ciao a tutti i fan della pagina dell'orto dio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi Nicodino stai zitto che stiamo facendo un video basta ci troviamo insieme con Luigi Lorusso il primo vincitore del mi piace su facebook perché se mettete mi piace alla mia pagina vincete i premi no come le altre pagine che mi danno un cazzo che si è vinto Luigi si è vinto una cassetta sulla scelta di 10 euro di verdura e addirittura qualche tartufino bianco pregiato ecco qua che stiamo con la consegna ecco la nostra prima ricevuta omaggio per Luigi ecco qua registramete che ti stacca allora ti registro io a te dai facciamo così la mettiamo qua te stai così che ti stacco la ricevuta come un vero negoziante guardate quanto so serio a lei omaggio signor Luigi è scritto omaggio omaggio dal signor Maggi ciao a tutti dall'orto addio mettete mi piace che il novecento vince o un litrozzo o un litrozzo e mezzo di oio o tre quattro cinque litri di vino sempre fatto da me scegliete voi bella